La ricerca di Perner, che è stata molto ripetuta, e anche la ricerca di Michelle, anch'essa ripetuta molte volte, mostrano in realtà che l'influenza sul bambino avviene già prima della scuola, perché noi vediamo differenze tra bambini che non sono ancora andati a scuola già a 4-5 anni. La variabile cruciale per questo aspetto dell'autocontrollo e quindi poi del raggiungimento degli obiettivi, prima scolastici, poi professionali, e più in generale in ambito sociale, con la famiglia e così via, è la fiducia. Perché se riflettiamo sulla struttura dell'esperimento di Michelle, se il bambino non ha fiducia nella persona che lui conosce o che può non conoscere, nelle varianti fatte con bambini piccoli, lui conosce la maestra d'asilo, la persona che gli promette due dolci in luogo di uno, se lui non ha fiducia, in realtà preferisce il soddisfacimento dell'obiettivo a breve termine, perché non è sicuro, non ha fiducia che sul lungo termine, che si tratta solo in questo caso 10 minuti, la persona gli porterà i due dolcetti. Quindi è cruciale che la persona implicata nell'obiettivo a lungo termine, in questo caso la persona deputata a dare un regalo doppio, sia una persona che gode della fiducia del bambino e poi via via, dello studente, dell'adulto e così via. Negli adulti, nei professionals, questo può essere un problema. Perché? Perché noi naturalmente, noi umani naturalmente, tendiamo ad affrontare in maniera molto veloce, quasi automatica, problemi che ci vengono posti. Allora, per porre, insomma, un qualche controllo su questa tendenza che è naturale, che è naturale perché? Perché per l'appunto la nostra mente è organizzata in maniera tale da poter rispondere velocemente alle sollecitazioni che provengono dall'ambiente, quelle che appunto in psicologia cognitiva chiamiamo sistema 1, piuttosto che invece delle reazioni e delle risposte che sono meditate e controllate e che afferiscono ad un altro sistema cognitivo che è il sistema 2, allora lì il problema sarebbe quello di o sfruttare degli incentivi oppure sfruttare delle riorganizzazioni, ovvero sia modificare l'architettura in cui l'individuo deve prendere delle decisioni. Questo è un campo che ormai si sta sviluppando negli ultimi 10-15 anni grazie agli studi che sono stati fatti da due studiosi, un giurista ed un economista comportamentale che ha ricevuto il premio Nobel l'anno scorso, ovvero sia Richard Thaler.